L'Altopiano di Asiago, un territorio di 500 km2 di estensione, compreso fra i 200 e i 2.000 metri di altitudine, è uno dei più vasti d'Europa. Terra ricca di storia e di tradizioni e meta turistica di rilevante importanza, fu nel secolo scorso teatro di importanti avvenimenti storici legati alle cruente battaglie della Prima Guerra Mondiale, il cui ricordo oggi resta vivo nei musei e nei reperti che costellano il suo territorio. I boschi che caratterizzano il paesaggio dell'Altopiano di Asiago sono un esempio di come una terra martoriata e completamente distrutta dagli eventi bellici abbia saputo rinascere e rigenerarsi fino a diventare sede di un patrimonio naturalistico di grandissimo valore. Asiago è anche il marchio di una delle più importanti eccellenze gastronomiche della nostra penisola. Il formaggio che da questa zona prende il nome, nato diverse centinaia di anni fa nelle malghe che costellano l'Altopiano, ha conquistato i consumatori di tutta Italia e non solo. L'attribuzione della denominazione di origine protetta da parte dell'Unione Europea ha sancito il forte legame di questo prodotto caseario con la sua terra ed ha limitato in un disciplinare la sua produzione, garantendone l'eccellente qualità e l'unicità. L'Asiago, dolce e gradevole se consumato a naturale, sa accompagnarsi ad un grande numero di preparazioni culinarie. Moltissimi sono i piatti che lo vedono coprotagonista e la fantasia di chef e di semplici consumatori arricchisce continuamente il suo ricettario.